io ritengo che il ruolo del sindacato sia da protagonista perché le relazioni sindacali e industriali in questo settore sono fondamentali e poi perché in ogni caso noi rappresentiamo le esigenze dei lavoratori che per primi vengono impattati dalle trasformazioni rispetto al mondo del lavoro al quale si approcciano e nel quale vivono quindi una presenza e un ruolo da protagonisti nel tentativo di orientare e facilitare questa trasformazione affinché non ricada appunto sulle spalle dei lavoratori.